Meglio degli altri, ciao ancora delle linee Se tu fossi un anno saresti il 2025 Grazie Manuelino Non so Non so a cosa tu ti stia riferendo Grazie Mutia Milano Volevo farvi vedere una cosa Volevo farvi vedere il mio sfondo del desktop Ho cambiato sfondo del desktop Grazie Mastro Ho cambiato sfondo Ho deciso di dire Col nuovo anno si cambia sfondo Grazie D'Erva per i due server regalati Degito di prendere questo nuovo suono Perché d'altro mi ha un po' annoiato Ho scelto uno sfondo casuale Nella mia libreria Spero che non dia troppo fastidio Questo è il mio nuovo sfondo del PC Ne sono onorato Grazie Agnoino Ne sono onorato Ma è uno sfondo casuale Mi è piaciuto Va bene Grazie Tafu Grazie Biesino Sì sono stato vissato da Zeb89 Anzi non sono stato vissato io È stato vissato il noto streamer Grazie Biesino Il noto streamer di Apex Legend Fratello di Stermi Al Diciamo che tra Zeb e Al Non corre buon sangue Grazie Grazie Fanix Infatti l'ho anche taggato nella mia storia di Instagram Perché ho detto Cavolo Alcuni penserebbero Alcuni penserebbero Penseranno che sia Omiet Ma in realtà stava dissando Hal Grazie Frafini Grazie Frafini Io ho voluto dimostrare la mia vicinanza Al mio amico Hal Ma io vorrei dire a Zeb89 Magari Clippatelo Che se vuole venire a fare una chiacchierata Io sono molto contento Grazie Cantur Grazie Prego Non sono un turuzzo 19 29 1 2 3 E abbiamo anche delle foto dove parlavamo Zeb Anzi Enrico Enrico Kennett Caselli E Ah io sono Devo dire che sono molto dibattuto Sul Sull'essere dissato Grazie Sorriman Sono molto dibattuto nell'essere dissato Perché Provo un Un senso di Di gioia Nell'essere dissato da Zeb Non lo so Non lo so Non riesco ad arrabbiarmi Ad arrabbiarmi Mi piace che Zeb ce l'abbia con me Perché so che Un piccolo spazio nel suo cuore ce l'ho Vabbè Sicuramente 2020 faceva schifo Ecco uno streamer che fa schifo Per cui Secondo Zeb C'è questa cosa qui E Parino Devo andare ad aprire Non so chi è Sarà Zeb? Allora Allora Ah io vorrei fare un'intervista Con Zeb89 Vorrei fare un'intervista Con Zeb89 Una chiacchierata Magari se vuole giocare A Call of Duty Se gli piace Se vuole giocare A Call of Duty Ragazzi Guarda come eravamo belli E fieri E' abbronzato E sono iraniano Ups Ti è fatto sembrare un razzista adesso No no Era bravo No Il Luca Comics Si tiene a Novembre No Sono iraniano Così Eh sì Ah l'ho perduto